L'associazione delinquere e addescamento di minori a scopi sessuali sono fra i capi d'accusa che pendono su Ghislaine Maxwell, l'accomplice di Jeffrey Epstein, arrestata dall'FBI nel New Hampshire. La figlia del magnate Maxwell è accusata di aver reclutato e istruito diverse minorenni per farle abusare e di aver partecipato lei stessa alle orge, insomma un anello capitale del sistema di traffico e sfruttamento di minori creato da Epstein, con decine di ragazzine che finivano fra le grinfie del miliardario nelle sue case a Manhattan, Palm Beach, Isole Vergini. Maxwell era in rapporto personale e professionale con Epstein, è stata una sua intima sodale, lo ha aiutato ad abusare delle 14 anni. Maxwell ha svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare il miliardario a identificare e fare amicizia con ragazze giovani che finivano nelle sue alcove. La donna in alcuni casi ha partecipato anche lei all'abuso delle giovani. La procuratrice americana Strauss ha aggiunto che Maxwell preparava le ragazze affinché accettassero gli abusi sessuali. Le vittime venivano ricoperte di regali, vestiti, soldi per farle sentire in debito. Tutto avveniva nelle lussuose dimore del miliardario. Dopo aver sviluppato un rapporto con le adolescenti, Maxwell ha quindi cercato di rendere normali gli abusi sessuali con le vittime attraverso un processo di schiavizzazione. Maxwell discuteva di argomenti sessuali con la vittima e si sarebbe spogliata davanti a lei, avrebbe presenziato dati sessuali coinvolgendo le vittime minori ed Epstein. Nel frattempo le porte rimangono aperte per ascoltare il principe Andrew del casato reale britannico che avrebbe negato qualsiasi coinvolgimento. Diamo il benvenuto al principe Andrew che venga a parlare con noi. Vorremmo avere il vantaggio della sua dichiarazione. Da figlia avuta in tarda età dal magnate dei media Robert Maxwell, ha ripetutamente negato qualsiasi illecito ma intanto comparirà davanti ai giudici del New Hampshire.